L'olio protagonista assoluto in un suggestivo scenario tra tradizione dei luoghi e contemporaneità dell'offerta artistica ed intrattenimento. Questo è quello che propone nell'ambito della ventitresima edizione la manifestazione Frantoi Aperti. Il 5, 6, 7, 8 dicembre nel territorio di Campello potrete degustare attraverso un viaggio all'interno di Frantoi ed antichi sentieri l'olio oltre che osservare e scoprire l'intero processo produttivo che stimola sia il gusto che l'intelletto. L'iniziativa è organizzata dal comune di Campello sul Pitunno in collaborazione con la S.Evens e con l'Associazione Culturale Media Events oltre che la collaborazione di tutte le proloco del territorio. Numerose sono le iniziative di quest'anno, l'importante mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, il più importante dell'Umbria da molti anni che si svolge ogni prima domenica del mese che grazie alle ultime iniziative ha visto forte incremento degli espositori raggiungendo le 350 unità. Come sempre sarà possibile visitare le celebre fonti del Tempietto del Pitunno, monumento candidato all'inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco. Allora, la manifestazione si svolge nell'arco di quattro giorni a Campello sul Pitunno e va a toccare tutti i luoghi sparsi sul territorio. La novità di questa edizione di Frantoi Aperti è quella di introdurre all'interno del mercatino una grossa novità che è quella di una sinergia nata tra il comune di Campello sul Pitunno e la Coldiretti Umbria per portare all'interno del mercatino tutta una mostra mercato dedicata ai prodotti tipici del territorio che spaziano dall'artigianato al prodotto enogastronomico. Grazie a tutti.